Non è una foto, Antonio! Non è una foto! Non mi viene Antonio, vai! Vai Antonio! Questa è l'altra azione che non mi viene, è la Pinedine. Vai Antonio, c'è ancora il video! Vai giù! Sì, per me. Vai! È un video! La ultima notte, Adriano Perino! Grazie a tutti.